Buongiorno a tutti ragazzi e grazie di aver preso del tempo per partecipare a questo webinar. Il tema di questo webinar sono otto punti su come programmarsi ora un rientro ad alto impatto sul mercato. Se siete d'accordo, prima di partire, un paio di cose inerenti a questo webinar. Lascerò e indicherò esattamente gli slot dove poter fare le domande, perché altrimenti se me le fate durante la sessione mi perdo. La seconda cosa che vi chiedo è per cortesia di fare delle domande in un'unica riga, non tipo chat di messenger o whatsapp perché altrimenti mi perdo e diventa un casotto. Partiamo. Prima di entrare nel vivo di questi otto punti che ho deciso di mettere in pratica per la mia azienda, faccio un'introduzione che per me è importante. Io ho cercato di fare un webinar concreto, pensando a cosa fare oggi che mi dia da mangiare subito, non tra sei mesi. Prima di questo webinar ho parlato con Dario, ho parlato con Ilaria, perché la mia paura è in certi casi di essere sempre troppo diretto nelle cose e ovviamente le persone un pochino più sensibili possono accusarlo. Ma se non fossi estremamente diretto oggi, avrei sicuramente più amici con cui bere un calice alla prossima fan night, ma meno risultati tangibili. Parlo in generale, vedo disegnare migliaia di arcobalieni, ci sta, ma se ci limitiamo a pensare che basterà fare quello e aggiungere migliaia di hashtag con scritto andrà tutto bene è una brutta notizia, perché non andrà tutto bene, almeno da un punto di vista economico. A chi andrà bene invece? Andrà bene solo a chi oggi si preoccupa e si impegna di mettere in pista una strategia di rientro. Oggi noi creiamo un impatto e sta a noi decidere che tipo di impatto vogliamo che sia. Sarei ipocrita nel dire o non pensare che la cosa è un pochino più complicata rispetto a bere un bicchiere d'acqua, non nascondiamoci dietro a un dito, dietro a un filo d'erba. Però per un analitico come me, per farmi un'idea di cosa ci può aspettare, ho fatto due cose importanti che vorrei condividere con voi. La prima, per me è stato utile... studiare il passato, i vecchi market crash, i vecchi crolli di mercato. La seconda cosa invece che ho cercato di fare e che è stato utile è parlare con delle persone anziane, gente che ha esperienza. Perché quando parli con delle persone anziane, nel mio caso mio nonno, gente che ha visto la guerra, la risposta è sempre la stessa, ragazzi. C'è sempre stata una soluzione. Non per tutti, ma c'è sempre stata una soluzione. Abbiamo vissuto il crollo del 2000 con la bolla di internet, quella del 2008 con Mutisup Prime e quella del 2011 con la crisi del devito sobrano. Chi vi sta parlando le ha vissute tutte e tre, e ve lo garantisco, c'è sempre stata una soluzione. Alcune considerazioni. Le proiezioni in Omisman, non so se le avete viste l'altro giorno, se non l'avete fatto andatevi a vedere la registrazione, danno uno scenario, nella peggiore delle ipotesi, di 400.000 compravendite, che è un bel calo rispetto alle 610-620.000 che prevedevano. Ma 400.000 non è zero. In qualunque momento della storia c'è sempre stato qualcuno che voleva vendere o comprare una casa. Ovviamente meno, ma c'è sempre stato qualcuno. E il nostro obiettivo, ragazzi, è quello di metterci lì in mezzo, di avere una strategia per metterci lì in mezzo. Io su questo tema generale mi fermo perché non ho la conoscenza per andare oltre, non ho studiato le pandemie e non mi voglio certo mettere a farlo adesso. Ho dedicato la mia vita ad aumentare i miei risultati, il numero di transazioni e come fare al meglio il mio lavoro. Prima degli otto punti una cosa importante. Io credo che mai come oggi il mindset e l'impostazione mentale abbia un ruolo vitale in tutti noi. Vorrei raccontarvi una storiella che leggevo l'altro giorno. È la storia di un anziano pescatore che decide di andare a pescare un giorno all'alba portandosi dietro il proprio nipote. E man mano che si allontanava dalla costa raggiungendo il luogo di pesca il nipote dice guarda nonino raccontami una storia. Il nonno dice ok, te la racconto. Caro nipote, dentro ognuno di noi, nella nostra panna, esistono e convivono due lupi. Il lupo numero uno è un lupo che pensa che il mondo sia un posto assolutamente ingiusto e pieno di ingiustizie. Pensa che ogni giorno ci sia qualcuno che sia lì pronto a fregarlo. È supercritico e pensa anche che il mondo sia uno schifo. Il secondo lupo che convive sempre nella pancia di uno di noi invece è un lupo che pensa che in ogni situazione ci sia un'opportunità. Pensa che lui e solo lui ha il controllo della sua vita e non vuole delegare a nessun altro le sue aspettative. E pensa che ogni giorno che apre gli occhi pensa che sia un giorno che debba dire grazie. Questi lupi lottano 24 ore al giorno, sette giorni su sette, caro nipotino. Passati 30 secondi, allora il nipote guarda il nonno e dice ma nonno scusami, ma alla fine chi vince dei due lupi qui? Il nonno lo guarda e dice caro nipote, il lupo che vince è quello a cui noi decidiamo di dare da mangiare. Ragazzi, su che cosa abbiamo il controllo oggi? Sui 600 euro del governo che ci aspettiamo e su tutte queste cose che non dipendono da noi. Vedo piogge di posto su questa roba qui ma dedicare tempo e attenzione su questa roba qui è sostanzialmente paragonabile a guardare i fondi del caffè sperando in un futuro o pensare che la crema scioglipancia della Vanna Marchi potesse fare potesse farci venire fuori gli addominali. Se non ho il controllo, che senso ha pensarci? Una cosa molto più importante invece è ragionare su che cosa abbiamo il controllo, su che cosa posso mettere l'attenzione oggi che può darmi un vantaggio competitivo domani. Io credo che mai come oggi dobbiamo concentrarci sull'essenziale ed invalidare tutto il resto perché forse non è elegante dirlo ma in situazioni di questo tipo la storia ci insegna che quando c'è un casino così c'è chi piange e chi vende fastoletti. Recentemente, anche ieri, mi hanno chiamato e mi hanno detto ma Simone qual è il tuo mindset in questo momento qui? Ve lo spiego in 16 secondi. Io non voglio ridurre i miei obiettivi nel 2020 e io so che l'unica strada per fare tutto questo è aumentare l'azione nei mesi che verranno ma prima di tutto pianificare il tipo di azione. È facile, no? Non è facile ma io credo che bisogna avere il coraggio oggi di porsi obiettivi estremamente ambiziosi perché anche se andrò a mancarli avrò fatto comunque meglio di chi oggi si pone degli obiettivi conservativi. Quattro cose che succederanno al cento per cento garantito al limone come diceva, come dice mia mamma. La prima cosa molti perderanno il lavoro. Non so se avete visto le ultime statistiche fino a qualche settimana fa il tasso di disoccupazione era il 10% ora la danno al 20%. Uno dice un 10% in più no è il doppio. La seconda cosa che succederà molti avranno entrate minori. Voi pensate a tutti quei negozianti che magari hanno attività di vendita di vendita eccetera è chiaro che non è che a maggio riaprono, se riaprono e ha la fila nel negozio di abbigliamento che vuol comprare la giacca da 500 euro. Per cui molti avranno delle entrate inferiori. La C è una cosa che capiterà molte persone si saperranno io ho un foglio dove mi sto appuntando tutte le persone che mi stanno chiamando che devono vendere spero che sia solo una mia sensazione ma il discorso di questa di questa convivenza forzata purtroppo purtroppo ha amplificato delle situazioni che erano in sottofondo. Ribadisco spero che sia solo una mia sensazione ma molti mi stanno chiamando dicendo purtroppo andrà così. D l'ultima cosa secondo il mio punto di vista che succederà è che alcune agenzie chiuderanno. Vedevo un sondaggio di Gerardo Paterno non so se l'avete visto anche voi e sto guardando spero che si senta ok si sente ragazzi datemi un cenno perfetto ok e avete visto un sondaggio di Gerardo Paterno almeno io l'ho visto e vedevo che c'era la sopravvivenza media dell'agente immobiliare che non fattura circa il 30 40 50 per cento adesso mi ha sfuggito è inferiore ai 60 giorni per cui è innegabile che se la cosa si protrae molte agenzie si chiuderanno chiuderanno questi quattro punti sostanzialmente è la macro situazione che io vedo oggi sul mercato però la cosa che mi interessa è concentrarmi sugli effetti indiretti di queste tre cose nel caso A B e C secondo il mio punto di vista molti venderanno casa da lunedì ad oggi ho ricevuto circa 17 18 chiamate di persone che sono clienti passati o centri influenza o eccetera che mi dicono guarda Simone noi per il motivo A B o C dobbiamo vendere l'immobile quindi è molto importante ragazzi molto importante verificare lo stock dell'invenduto capire esattamente come si muoverà il mercato e quanti immobili nuovi verranno messi sul mercato c'è un modo semplicissimo per farlo andate su immobiliare.it evidenziate le zone in cui lavorate e settimanalmente vedete la giacenza media degli immobili è importantissimo perché ovviamente è inutile che non serve una laurea in economia che se ci sono meno acquirenti pronti a comprare perché hanno perso il lavoro hanno entrate minore eccetera e aumenta l'offerta degli immobili presenti sul mercato se uno più uno fa due è molto probabile che i valori in qualche maniera ne risentano e soprattutto anche i tempi di vendita la seconda cosa che per me succederà è che molti saranno alla ricerca di entrate aggiuntive negli otto punti vi spiegherò su questo tema perché e cosa possiamo fare per cercare di catturare questo tipo di persone io questa cosa me ne sono accorta perché stanno esplodendo se voi guardate su facebook o sui social stanno esplodendo le campagne del network marketing e dietro il network marketing non c'è la vecchietta che fa la maglia e fa una sponsorizzata ci sono delle multinazionali con dei business a nove dieci figure per cui non sono proprio degli sproveduti e loro sanno benissimo che in una situazione di questo tipo il network marketing esplode perché è gente che con pochi investimenti può fare e avere un reddito aggiuntivo rispetto a quello che ha o che addirittura non ha più teniamo la mente questo perché dopo si ricollega uno degli otto punti la terza cosa che secondo me succederà guardando il punto di che alcune agenzie chiuderanno è che possiamo aumentare le nostre quote di mercato se il numero di player diminuisce è chiaro che gli agenti che riusciranno a stare in battute continueranno in maniera a lavorare in maniera costante pronti è molto probabile che possano aumentare le proprie quote di mercato aggiungo ovviamente i broker ci sono sicuramente già arrivati è che è un'ottima occasione di reclutamento soprattutto per agenti che sono in strutture non organizzate di conseguenza non so se riapriranno mai più questi sono gli effetti diretti e indiretti a questo punto primo slot le domande se volete farmi qualche domanda su questo tema se no vado avanti sugli otto punti ok perfetto aspetta sì vabbè questo rispondo dopo 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 no perfetto dov'è la nostra opportunità e cosa farò io queste sono le mie otto mosse la prima cosa che farò è aumenterò spese pubblicità sta succedendo una cosa incredibile che io voglio sfruttare chi ha delle ads su facebook delle campagne a pagamento quello che sta succedendo adesso è una congiuntura particolarmente interessante perché ah ci sono tantissime persone con in mano il telefono tantissime persone con in mano il telefono e quindi sono collegate a facebook ma tante piccole aziende hanno smesso di fare campagne su facebook le piccole non le grandi le piccole e quindi a questo punto qual è la cosa interessante che mi sta capitando è che mi stanno arrivando una marea di lead ha un costo nettamente inferiore rispetto a quello che è la storia delle mie campagne su facebook e quindi e quindi questa secondo me è un'opportunità dove andare a investire per chi ha la possibilità la seconda cosa che farò ho già ordinato è questa ho organizzato scusa sono andato in stampa e stampano io stampo con flyer alarm che è in germania stampa tranquillamente ed è operativa 50.000 volantini di questo tipo è un classico appena messo in vendita dove sul primo lato c'è l'immobile che ho messo sul mercato e sul lato dietro sul lato dietro invece c'è quello che per me è la ricerca di nuovi immobili siamo interessati all'acquisizione so che qualcuno ama l'acquisizione non mi interessa io sono la migliore opportunità per quella persona che legge quel volantino che deve vendere per cui non mi spavento del fatto che uno mi dica ah no è vero non è vero non mi interessa e poi io ho degli investitori e quindi posso venderli direttamente a loro e ecco una cosa interessante io vado a sfruttare questo discorso qui protocollo visita sicura perché secondo me è molto importante garantire al venditore il fatto che non è che gli porteremo un miliardo di persone ammesso e non concesso che ci siano ok perché secondo me bisogna avere degli accorgimenti delle visite importanti tipo noi ci stiamo organizzando per fare delle visite quando si aprirà la zona grigia per cui quella zona dove non è che si può andare a fare insomma un concerto dei Queen ma ci si può muovere almeno con un po' di regolamentazione ci stiamo attrezzando e la proposta la promessa di valore che diamo al proprietario verremo in casa tua ma porteremo delle persone che hanno la mascherina i guanti i calzari i calzari sotto eccetera un'altra cosa interessante è che io allegro la testimonianza attraverso questo QR code è un video se tu ci vai sopra vedi il video di un cliente che ha venduto un immobile sempre in via Toscana per cui vicino a loro e che dice guarda ho venduto con Simone avevo la casa vicina a te l'ho venduta eccetera 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 secondo me non è buono cioè secondo me è buono scusate ragazzi e come fa a distribuire Matteo è chiaro che io li sto ordinando e sto aspettando sto aspettando quel momento in cui la linea rossa come adesso diventa grigia per cui che almeno qualcuno possa lavorare però intanto mi preparo ok questo è una cosa su cui credo molto 50.000 mi stanno arrivando una cosa importante delle campagne adesso entro un pochino nello specifico io ho fatto due test il primo test è ci sono io Rossi Simone che spingo la campagna B è una campagna neutra funziona molto di più la campagna neutra dove non c'è la mia faccia secondo me in questo momento c'è bisogno di spersonalizzazione funziona molto di più qualcosa che non è che viene detto dal soggetto XY ma viene detto da un'entità un pochino più come posso dire non dico un ologramma un'entità che non è prettamente fisica ok perché altrimenti il rischio nelle campagne lo provavamo sciacallaggio non è il tempo di lavorare che è una gran cazzata perché se vogliamo provare a pagare gli infermieri trovare i sistemi per incentivare il sistema economico è chiaro che c'è qualcuno che deve lavorare ma lì mi fermo perché davanti all'ignoranza io mi fermo sempre seconda cosa che farò per me il lead oggi per cui un cliente che deve vendere è paragonabile a un pulcino cosa intendo con questo i nominativi che mi stanno arrivando adesso dalle campagne dalla mia ricerca eccetera è una persona con cui parlo oggi e non è che gli dico ci sentiamo tra 25-30 giorni aspettando che la situazione cambi perché non posso fare questo perché se faccio una cosa di questo tipo e lo chiamo il 25esimo giorno e magari il giorno prima ha chiamato l'agenzia di sotto io sono messo sullo stesso suo piano e io non voglio essere messo sullo stesso suo piano per cui nel momento in cui ho la notizia l'idea chiamiamolo come ci pare come vi pare io una volta a settimana lo chiamo e gli dico caro Francesco come vedi anche oggi la situazione purtroppo non è cambiata però volevo farti sapere che ci continuiamo a tenere aggiornati ovviamente quando ci sarà l'opportunità di venire a casa tua per mettere in vendita la casa io ci sarò stessa cosa oltre una chiamata alla settimana io continuo a mandargli una volta ogni tre giorni dei link su whatsapp nel mio caso io ho dei video che gli mando dove spiego esattamente dal lato del venditore cosa importante se devi vendere casa come fai a cancellare il mutuo in essere quali sono i documenti da preparare come si organizza un open house per cui lo sto nutriendo e coccolando come fosse un pulcino questo perché perché il giorno in cui io potrò andare a casa sua io non dico che sono diventato un suo amico ma non sono uno sconosciuto non voglio essere messo sullo stesso livello della persona che ha scoperto che lui vendeva dell'agenzia sotto e lo chiama al giorno prima questo ragazzi è importantissimo ok oltre che il fatto che la gente adesso a tempo e le guarda anche i miei video non avete video o le fate dal cellulare ci mettete un secondo e glielo mandate o mandateli almeno degli articoli o qualcosa che riguarda voi la vostra azienda eccetera ok scusate però ragazzi fatemele dopo le domande per cortesia se no mi perdo e terza cosa io sto arruolando dei segnalatori a cui io pagherò una segnalazione di 500 euro per cui io sto chiamando tutti i clienti passati e i centri di influenza io ho un video magari dopo ve lo linko dove sostanzialmente vado a chiamarli la prima cosa ragazzi questo è il momento di dare per cui questo è il momento di essere delicati e prima di partire con qualsiasi cosa chiedere dal cuore ciao come stai ciao come stai perché dobbiamo partire da questo perché la gente è confusa e bisogna in qualche maniera che noi siamo vicini alle persone che tra altre cose ci hanno aiutato in passato magari a darci qualche segnalazione o cliente che doveva vendere eccetera per cui ciao come stai perché ho deciso di fare questa cosa dei segnalatori per il discorso che vi dicevo qui che molti saranno alla ricerca di un reddito aggiuntivo per cui oggi questi 500 euro se fino a un mese fa avevano un peso specifico di 2 oggi hanno un peso specifico di 10 ok io la segnalazione la pagherò nel momento in cui tu mi segnali l'immobile che vendo e nel momento in cui lo vendo che incasso ti chiamerò adesso io l'ho fatto in maniera automatica con un'applicazione ma si può fare tranquillamente anche con ovviamente un sistema un pochino più più artigianale non ci sono problemi in tutto questo l'importante quando si prende la segnalazione tenere aggiornato il segnalatore di come va comunque la situazione e alcuni mi hanno detto ah ma Simone 500 euro può essere offensivi la mia comunicazione nel mio video che dopo vi posto perché qui non riesco a farlo è molto semplice ho voglia di ridare qualcosa indietro sei sempre stato molto gentile con me e io ti ho sempre ringraziato se mi hai creato delle opportunità di business oggi ti do un'opportunità se ne hai bisogno questi 500 euro sono contento che vadano nelle tue tasche se non hai bisogno sono contento sul fatto che comunque te le pagherò e tu deciderai di darli in beneficenza a enti che oggi ne hanno bisogno come non mai provatelo ragazzi perché questa è una cosa che ha veramente un fortissimo impatto la strategia è molto semplice per aumentare i risultati l'unico modo l'ho pensato è a aumentare il numero di persone con cui parliamo b parallelamente amplificare le ragioni per cui dovrebbero prendersi del tempo per noi ok continuiamo anche oggi a buttare legna sul fuoco domande ragazzi qua me ne sono arrivate un milione chiedo anche a te Donato come organizzarmi perché se rispondo a tutte queste arriviamo a Staltranno allora va bene rispondi solo alle domande quelle che sembrano più allora come si chiama l'applicazione e dopo farò una cosa ragazzi e nella mia pagina Facebook Simone Rossi vi metto il link dove ci sono quale applicazione utilizzi è un'applicazione che ho creato io e ve lo posto nella mia pagina Facebook Simone Rossi così lo vedete spero che si perde l'audio non so cosa dirvi e non ho ricevuto quelli passati posso ricevere no ok vado avanti ragazzi perché sono troppe non riesco a a gestire la sta roba qui ok ringrazio tutti i 1500 partecipanti però devo andare avanti ragazzi ok altra cosa che farò allungherò ho già allungato i tempi in carico per cui sto prendendo le proroghe io ho già preso tutte le proroghe il punto 5 anche è ribassa tutto come l'ho gestito io ho chiamato tutti la settimana che c'è stata la ferma e ho chiamato gli ho detto guarda la situazione è questa ci dobbiamo bloccare ti arriverà una mail e questo è il momento giusto di fare il punto anche sul prezzo ok per cui la mail che inviavo è questo ho cancellato ovviamente i dati salve signori come ben sapete sono entrati in vigore bla 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 tal proposito ne abbiamo sospeso anche nel rispetto della nostra salute e vostra salute tutte le attività di visita e commercializzazione a tal proposito a far data dal 5.3 al 5.5 abbiamo sospeso eccetera per cui adesso io magari anche questa la metto sul così se volete ne prendete spunto comunque ho fatto due cose A ho allungato l'incarico di due mesi subito e B ho fatto il punto col proprietario per abbassarlo a luce di questo chiedo con la presente la vostra conferma di ricettazione accettazione ovviamente la mail di risposta PEC non PEC ragazzi non perdiamoci in un bicchier d'acqua non posso mandare delle PEC a della gente di 70 anni io faccio bisogna fare il massimo che si può fare con quello che abbiamo cerchiamo di non far troppo i fini intanto io l'ho tra virgolette ho preso un impegno che innanzitutto secondo me la mail è valida però al di là di questo che nel momento in cui si riaprirà il discorso farò il giro di tutti e andrò a prendere le firme di regolarizzazione di questa roba qui ok però questa cosa è da fare innanzitutto allungare gli incarichi è importantissimo e la seconda cosa è fare il punto del prezzo io vado molto chiaro su questa roba qui alla gente avete idea di cosa accadrà nei prossimi mesi perché se lei proprietario non ha ancora capito che questa è recessione è un problema e quando ci sono le recessioni guadagna di più chi vende prima non chi vende dopo io ho ovviamente delle mail passate che mi sono stampato quando accade nel 2008-2009 questa roba qui dove io dicevo ai proprietari a 200.000 dobbiamo ribassare il prezzo e loro dicevano no aspettiamo e a quel punto le risposte dicevano aspettiamo e poi dopo la casa da 200.000 l'ho venduta a 160 è questo il messaggio che dobbiamo dare ai venditori attendere non risolve il problema attendere non risolve il problema quindi se noi abbiamo degli immobili che noi sapevamo che già prima erano un pochino alti come prezzo adesso sono altissimi se noi pensavamo di avere degli immobili che comunque avevano il giusto prezzo forse c'è da fare un ritocco ok però abbassate quei prezzi ve l'ha posto ok non vi perfe ve l'ha posto ragazzi andiamo avanti punto 6 questo ragazzi è importantissimo database venduto noi siamo all'anno zero questo di oggi è un nuovo mondo dell'immobiliare e dei prezzi la cosa più importante da fare oggi che ci mette nelle condizioni di vendere subito è quello di sapere oggi a che cifre si stanno vendendo gli immobili quindi io lo dico anche ad Alessandro il mio broker che è in linea bisogna cercare e lo dico a voi a tutte le agenzie di fare un database del venduto di oggi oggi io voglio sapere il mio collega due giorni fa quella casa a quanto l'ho venduta a quanto l'ha venduta perché già venti giorni fa è diverso quindi qui diventa veramente importante sapere le cifre di oggi perché economisma può fare delle proiezioni per quanto riguardi il volume del transato ma i prezzi è come tirare le monetine bisogna andare a recuperare i dati certi non vi nascondo io ieri ho chiamato anche Dario e ho chiamato anche Alessandro Bianchi perché noi in Remax abbiamo uno strumento che è fondamentale che si chiama Remax All che questo è il momento proprio perfetto per pompare all'infinito come funziona Remax All? quando voi mandate le vostre proposte scansionate o compilate il B3 con i valori non è perché c'è qualcuno lì che se lo stampa e se lo mette sul cuscino o dà fuoco per il camino serve per fare delle statistiche per cui avere un database del venduto allo stato attuale ci permette di fare delle analisi comparative ci permette di fare delle analisi comparative su dei valori veri e reali e se noi vogliamo metterci nelle condizioni di recuperare quello che abbiamo perso la prima regola è uscire col prezzo giusto far vedere ai proprietari qual è il prezzo reale ok? cosa si può fare anche magari con agenti singoli che stanno guardando eccetera prendete il telefono e una volta la sistemata chiamate i colleghi della zona che cosa è venduto a che presto che cosa è venduto a che presto e createvi il vostro database alle agenzie Remax più strutturate create un database diviso per foglio catastale dove andate a legare planimetria scheda di maximizer e proposta d'acquisto ok? fondamentale ragazzi fondamentale come trovare i dati certi del ventuto allora io fino a ieri usavo Stimatic City ok? che è un mio corsista lo sa e che è un strumento che ti dà l'opportunità di scaricare i rogiti in tempo reale ma il problema è che i rogiti che tu scarichi oggi sono di operazione di sei mesi fa dove il mondo era leggermente diverso oggi l'unica cosa che si può fare è guardare il venduto delle proposte d'acquisto perché anche quando un omismo o qualche ente andranno a fare delle proiezioni del prezzo saranno tra tre mesi quindi io ne ho bisogno oggi io voglio vendere e mangiare oggi punto 7 prequalifica scusate una cosa ragazzi sul punto 6 sempre ai ai miei corsissi se sono in corso in ascolto chi fa comunque il pacchetto informativo andate a estrapolare e a legare al pacchetto informativo e lo screenshot della previsione nomisba del venduto che fa vedere da 620.000 a 400.000 questo anche chi vuol fare il ribasso è un buon strumento per far capire i proprietari chi aria tira settima prequalifica ferrea ragionando a voce alta è molto probabile che da qui fino a giugno eccetera ci possa essere una restrizione del girovagare ecco diciamo così per cui per me diventa importante andare ad appuntamenti e portare clienti che siano estremamente prequalificati io avevo già un livello di prequalifica altissimo e oggi io l'ho portato lo porterò a livello 10 non possiamo disperderci non dobbiamo assolutamente disperderci cosa intendi per standard allora prima chi è un tuo cliente parlo del lato venditore e cos'è per me lo standard io vado da un venditore che sostanzialmente ha delle caratteristiche mi sono costruito un avatar nella mia testa di chi è il mio cliente perché se i tuoi clienti sono tutti i clienti non è nessuno ragazzi ok il mio standard è semplice parlo del mio è una persona che deve vendere entro sei mesi che deve vendere casa entro dieci chilometri dal mio ufficio che mi dice il prezzo che è in mente prima che io muova un muscolo cioè io non faccio delle valutazioni così alla cavo la gente che vuole solo farsi un'idea per cui quando esco e vado a casa di una persona lui mi deve già dire che cosa ha in mente quarto che sia collaborativo che se gli faccio delle domande per capire il motivo per cui vende per capire la motivazione per capire tante altre cose mi risponda se non mi risponde non è il mio cliente ok per cui sì io ho imparato a dire tante volte no è chiaro che delle volte la gente si arrabbia io preferisco essere meno popolare ma in cambio di rispetto del mio tempo ok come si chiama il sito si chiama Stimatic City ma in questo momento non ha senso guardarci punto 8 open house virtuale allora ho visto che l'ha lanciato anche Andrea Minuti benissimo io è già dieci giorni dodici giorni che sto creando una piattaforma che creasse questo tipo di aspetto ragazzi perché ho visto tanti virtual tour ma il virtual tour non risolve il problema perché ve lo spiego il virtual tour è una visita singola con una persona la visita singola della persona qual è il rischio come è successo nel 2008 2009 che chi ha i soldi oggi tu sei fuori a 200.000 ti offre il 30% in meno qual è l'unico modo per non far soffrire il 30% in meno è far capire a quella persona che è interessata che non è l'unica a essere interessata io non credo molto nel batna o tutto questo tipo di negoziazione per me la negoziazione è uno quando tu hai un'alternativa vera o percepita del cliente che sa che non c'è solo il fine della negoziazione per cui io mi metto sempre nelle condizioni di essere estremamente distaccato per cui chi compra sa che non deve non è l'unico ok per cui io sto lavorando su una piattaforma sto già facendo i primi test che sostanzialmente fa vedere a tutti quanta gente è presente in questa visita virtuale all'immobile e soprattutto dà la possibilità alle persone che sono interessate di prenotare una visita quando ci sarà lo spazio per poterlo fare fisica con determinate caratteristiche si va una alla volta io farò una disinfezione con lo zono prima della visita dopo la visita così mi garantisco il proprietario che gli do un immobile in ordine e fornisco il materiale medico io per cui mascherina i calzari i guanti e ci sarà un protocollo ok per cui questo secondo me è importantissimo il virtual tour non ha senso secondo me adesso ragazzi cioè non mi va a risolvere una questione o almeno lo fa parzialmente ok sempre grande sul pezzo grazie non si sente più come si chiama la piattaforma la sto facendo ragazzi sto facendo dei test ok una cosa che sto creando io insieme a Francesco Iacomelli e insieme a un'altra cosa punto 6 che ribasso si può vedere che ribasso si può vedere ragazzi non so che ci sarà un ribasso ecco perché quando tu metti tanti immobili in vendita e cala la domanda è fisiologico ok Davide Stronone non si sente più ma tanto tu non capisci scherzo ciao amico mio allora punto 9 upgrade personale ok non ci sono scuse oggi abbiamo un'opportunità incredibile che è studiare quello che non avevamo il tempo di studiare fino adesso quindi quando tutto ripartirà ragazzi nella mia testa e nel mio cuore è che voglio ripartire sapendo di essere un agente migliore rispetto a prima di avere più competenze e rispetto a ieri per cui io sto continuando a mantenere la mia routine sto studiando sto leggendo perché va bene fare i torti e i biscotti è bellissimo ragazzi ma a meno che noi non vogliamo diventare o Iginio Massari o Bruno Barbieri bisogna che noi o ci mettiamo nel balcone o ci mettiamo in cantina ma noi le nostre 6-7 ore le dobbiamo lavorare ragazzi ok dobbiamo lavorare mi raccomando ok per cui un altro tema secondo me importante è cercare di scandagliare la propria attività la propria azienda cercando i punti di debolezza e su questi lavorarci ok assolutamente sì non faccio i virtual tour Luca Compiani ma faccio gli open house virtuali che è una cosa diversa il virtual tour sei tu da solo l'open house virtuale sei tu che vedono anche gli altri poi gli altri saranno con la faccina della di di coso dei puffi ma vedono che ci sono ok ok ragazzi questi sono i punti che io ho pensato e che metterò in pratica che sto già mettendo in pratica e sto ottenendo comunque un ottimo riscontro che libri ci consigli allora vi consiglio aspetta che ce li ho qui ragazzi ve li scrivo su facebook Simone Rossi e andate nella mia pagina perché non riesco adesso non ce li ho non ce li ho qui ok allora io sono arrivato in fondo a a questo webinar questo probabilmente è il momento più difficile che passeremo sul mercato nella nostra vita e ovviamente in questo momento tu non sai quanto sei forte quanto essere forte è veramente l'unica scelta che abbiamo qualsiasi cosa vedremo nel futuro sarà sicuramente meno difficile rispetto a questa e questa potrebbe essere l'unica l'unica consolazione su cui possiamo basarci oggi nel mio piccolo io vi ho sbloccato nella mia pagina facebook datemi tre minuti e le metto quando finisco tre contenuti la prima l'agenda di un top producer l'ho sbloccata dal mio videocorso la seconda come fare un'analisi di mercato e vi ho sbloccato il webinar della mia applicazione che utilizzo per per i segnalatori immobiliari e e stop queste sono le cose che metterò a disposizione della 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 rete ragazzi è un momento dove bisogna tenere la barra dritta e in questo momento la cosa secondo me più importante è mantenere l'energia giusta perché molti passi falsi vengono fatti stando fermi adesso io mi rendo conto che magari in casa da venti giorni possa essere deprimente ma è importante rimanere energici e mantenere comunque la propria routine e ve lo dice uno vi parlo col cuore che sicuramente non ha passato un momento fantastico negli ultimi settimane ho avuto un problema di salute con mio padre che fortunatamente si sta risolvendo e non c'entra niente il il covid ma vi lascio con una frase di di mio nonno di qualche giorno fa quando ero veramente in una situazione un po' particolare un po' di down e in una telefonata mio nonno mi disse guarda Simone ricordati sempre che l'ora più buia è quella che precede il sorgere del sole per me è stato un onore essere qui davanti a 1500 persone ringrazio a Remax per l'opportunità che mi ha dato vi pubblicherò sulla mia pagina datemi 5 minuti quei 3 contenuti che vi ho promesso e se vi è piaciuto siccome vedo che c'è anche la mia bimba in linea per una volta vorrei essere più famoso di Fedez per cui se vi fate un selfie e mi taggate nella pagina dove si vede lo schermo del cellulare voi vi fate davvero una grande cortesia spero di avracciarvi presto statemi bene e barra dritta ragazzi ciao a tutti